Primi tre casi di positività sono stati registrati tra le persone in coda all'aeroporto d'Abruzzo per il controllo obbligatorio del Covid-19 al ritorno dalle vacanze da Malta, Romania e Spagna. Lo scalo abruzzese, infatti nei giorni scorsi, in accordo con il commissario Covid e il commissario di protezione civile, aveva attivato un controllo speciale per i passeggeri di rientro dall'estero. Già nella giornata di ieri, un centinaio di persone arrivate da Malta hanno potuto eseguire i test grazie alla Task Force della regione Abruzzo con il personale della ASLE di Pescara e Chiedi. I controlli hanno evidenziato tre casi di positività tra i passeggeri provenienti da Malta. Uno degli stati ha maggior rischio contagio nelle ultime ore, mentre nessun caso è stato evidenziato tra i viaggiatori provenienti da Bugarest e Girona. Adesso le tre persone positive sono state sottoposte a quarantena obbligatoria. Un giovane di Pescara di ritorno da Malta è il primo passeggero positivo al Covid-19 nell'aeroporto di Fiumicino. Il ragazzo pescarese era rientrato in patria con un volo operato dalla compagnia irlandese Ryanair a farlo sapere è l'unità di crisi Covid-19 della regione Lazio. Ora la sfida della regione Abruzzo, anche a fronte dello stop delle discoteche e dell'obbligo della mascherina anche all'aperto dove non è possibile rispettare il distanziamento, è quella di abbassare l'indice virale, visto che nelle ultime ore la nostra regione è schizzata al secondo posto dietro solo alla Sicilia per numero di contagi. Infatti l'indice ora si attesta a 1,33 contro l'1,41 della Sicilia e proprio dalla Sicilia oggi sono previsti due voli con destinazione Pescara. L'RT a 1,33 è stato evidenziato nell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. Indice che il virus non solo non è sparito, ma sta circolando anche in maniera piuttosto veloce e per questo ancora una volta servono prudenza e responsabilità da parte di tutti.